e partirei dal titolo imparare dal dolore è un titolo che ci fa pensare che il dolore non sia solo un nemico da combattere ma anche un'esperienza al limite un maestro da cui imparare qualcosa è una esperienza intensa della nostra vita che se potessimo evitare sarebbe molto meglio quindi nessuna valorizzazione del dolorismo nessuna assolutizzazione del dolore come esperienza buona ma pur dovendola continuamente combattere effettivamente può insegnarci qualcosa può insegnarci qualcosa della condizione della nostra vita come una vita che è segnata da una dimensione di passività noi riceviamo noi stessi il dolore nel nostro corpo ci segnala questa situazione esistenziale che attraversa tutta la nostra esperienza si tratta quindi di capire se è possibile combattendo il dolore la dove è possibile e doveroso combatterlo se però quell'esperienza della vita che comportano una perdita e quindi un dolore pensiamo pensiamo a tutte le esperienze di crescita perdiamo sempre qualcosa perdiamo il nostro ambito familiare per allargare le nostre relazioni perdiamo la nostra famiglia originaria per fondarne un'altra questo ci fa dire che la perdita il dolore che ne consegue caratterizza la nostra esistenza allora si tratta di meditare di approfondire il significato di questa esperienza ineluttabile inevitabile che ogni uomo ogni donna incontra nella propria esistenza fin dal momento della nascita e capire se all'interno di questo dolore di questa sofferenza è possibile operare una distinzione combattere il dolore evitabile e attraversare quel dolore che è indispensabile e che ci fa crescere verso livelli di umanità più progredita questo ci dice anche qualcosa di dio spesso noi diciamo se dio è onnipotente non è possibile che ci sia il dolore se no non è dio perché non sarebbe un dio buono invece il vangelo ci rivela alla luce proprio di queste esperienze esistenziali che dio è quello che condivide la nostra condizione umana è il primo a nascere nella storia e assumere alla luce di questa dinamica di perdita e di crescita le situazioni contraddittorie del mondo e assumendo il mare lo rielabora perché la vita possa crescere e svilupparsi maggiormente non perché celebra o assolutizza la morte o ancora peggio sia a sua volontà la sofferenza dell'uomo